Il fronte del Nole Biomasse fa sentire la propria voce e si appella al prefetto di Campobasso per sottoporre la sua attenzione e questioni di fondamentale importanza. In prima linea il sindaco del comune di Campochiaro, Antonio Carlone, preoccupato per le ripercussioni che la realizzazione delle centrali potrebbero avere sulle sorti del turismo matesino. Abbiamo ricevuto tanti finanziamenti legati all'ambiente, legati allo sviluppo del territorio, al turismo sostenibile e alla natura in generale. E' chiaro che nel momento in cui cominciamo, e questo è il timore, a inserire, insediare nei nostri territori delle aziende che confliggono, delle attività che confliggono con quello che è lo sviluppo per il quale abbiamo ottenuto i finanziamenti, potrebbero arrivare anche lo stop a quelle risorse. Sul tavolo del prefetto questioni di carattere pratico, da considerare infatti le possibili conseguenze in termini di ordine pubblico che decisioni affrettate sullo scottante argomento biomasse potrebbero causare. Temiamo appunto che la ripresa dei lavori possa comunque sfociare in una serie di manifestazioni che finora sono state pacifiche, però comunque potrebbero anche sfociare in altro. I sindaci dell'area del Matese chiedono inoltre al prefetto di farsi portavoce nei confronti della regione molise per attivare la sospensione delle due determini. Io ieri ho inviato una nota di diffida alla regione molise invitando appunto a sospendere le due autorizzazioni nell'attesa delle ulteriori decisioni. La terza richiesta ha un carattere strettamente sanitario. Noi abbiamo necessità di sapere per quanto riguarda le sostanze inquinanti quelle che sono presenti nel nostro territorio e in quali e in che quantità. Con questo speriamo che il prefetto per il tramite della regione molise possa far arrivare anche quest'ulteriore risposta ai cittadini molisani. Grazie. Grazie. Grazie.